Le Molisane, Campobasso e Olimpia agnonese coinvolte nel campionato di serie di Girone F iniziano il 2017 con nuovi e positivi programmi, ma soprattutto obiettivi. La prima gara che inaugurerà il nuovo anno solare per i Lupi sarà con il Pineto al Selvapiana, invece per l'Agnonese al Civitelle con la squadra Romagna Centro. I Rosso-Blu riprenderanno con la voglia di non indietreggiare nella classifica, ma soprattutto con un'abbondanza in attacco. Infatti i Lupi nella sfida contro il Pineto potranno tornare a contare sulle prestazioni del capitano Umberto Improta, classe 1984. L'Agnonese invece in questi giorni attiva sul mercato a caccia di una punta centrale in sostituzione dell'ex Parma e partente Daniele Gragnoli. La squadra altomolisana intanto avrebbe chiesto di poter anticipare al sabato il match contro il Romagna Centro, un regalo ai tanti tifosi fuori sede e rientrati per le festività natalizie.